Sgominata grazie ad una indagine dei carabinieri di Boiano, una banda che rubava orologi preziosi in diverse regioni italiane con la tecnica dell'abbraccio. Qualche giorno fa nel centro Matesino un noto commerciante del posto è stato avvicinato da una donna che dopo aver chiesto aiuto per la ricerca di un posto di lavoro lo ha abbracciato e poi si è allontanata velocemente fingendo di dover parlare con alcuni passanti. Solo dopo alcuni istanti l'uomo si è accorto di aver subito il furto del Rolex che aveva al polso dal valore commerciale di circa 10.000 euro ma ha dichiarato poi ai carabinieri dall'inestimabile valore affettivo. I militari visionando le telecamere presenti in zona sono riusciti a identificare l'auto una BMW sulla quale la donna è salita dopo il furto e hanno inserito il numero di targa nella banca dati delle forze dell'ordine. Qualche giorno dopo la stessa auto è stata fermata per un controllo dalla polizia a 20 miglia. Qui gli agenti dopo aver contattato la caserma di Boiano per informarsi sull'accaduto hanno perquisito l'abitacolo trovando in un doppio fondo del cruscotto sia l'orologio prezioso rubato a Boiano che altri modelli simili frutto di analoghi colpi messi a segno dalla banda in altre zone d'Italia. Le due persone che erano a bordo dell'auto, due romeni, sono state fermate e trasferite nel carcere di Sanremo.